350 studenti a lezione dalla polizia per imparare, capire, conoscere i pericoli del web che sono davvero molti. Sì, in effetti l'iniziativa di oggi si intitola in realtà Uso e Abuso dei Social Network, alla guida da soli in compagnia. Quindi è un'iniziativa mirata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle quarte, 17-18 anni che si accingono magari a ottenere la patente di guida e che sicuramente utilizzano i social network. La nostra iniziativa, sempre nell'ambito di quell'attività di prevenzione, è quindi mirata proprio per ammonire, istruire, diciamo così, con dei validi collaboratori qualificati ed esperti in materia, sui rischi potenziali che, ripeto, l'uso sbagliato di internet, della telematica, dei social network può determinare, in alcuni casi anche in ipotesi vera e propria e reato. C'è il problema di chi usa il telefonino quando guida, c'è il problema di chi posta immagini o manda messaggi o fotografie e lo sappiamo, insomma, può succedere spesso di ragazzini che poi si trovano in difficoltà. Assolutamente sì, le statistiche della stradale, della polizia stradale, ci dicono che l'incidentalità dovuta all'utilizzo dei dispositivi mobili è aumentata. Un detto dice noi oggi siamo ciò che postiamo, quindi l'abuso dei social network con un utilizzo improprio può determinare a volte delle conseguenze molto gravi sia per chi posta, quindi per il soggetto attivo, diciamo, nel caso di ipotesi di reato, sia per la vittima, il soggetto passivo, e quindi queste sono le ipotesi del cyberbullismo o addirittura di vere e proprie ipotesi di reato come la diffamazione. Ci sono stati episodi anche nel nostro territorio? Ce ne sono stati alcuni che sono al vaglio dell'autorità giudiziaria, è un fenomeno trasversale a tutte le fasce d'età, a tutto il territorio nazionale, ma non solo, a livello internazionale, e quindi la cronaca se ne è occupata anche in passato.